Volevo sottolineare alcuni aspetti che Dario e Marinella e Peppe Zollo non hanno dichiarato. Una delle cose che a me hanno stupito di più è che durante il percorso Dario e Marinella ci sono sempre, cioè loro a prescindere dal fatto che abbiano in quel modulo il ruolo di fare la parte più importante dell'insegnamento, sono sempre presenti e sono sempre con noi. La seconda cosa che vorrei dire è che per me è stato un percorso rasserenante perché di fronte alla complessità ci si può smarrire, ma quando si comprende che di fronte alla complessità i nostri comportamenti sono dei tentativi di trovare delle soluzioni e non siamo obbligati per forza a risolvere un problema sapendo già come andrà a finire, e questo personalmente mi ha dato un senso di sicurezza che prima non avevo. E infine ci sono delle cose molto simpatiche che ho imparato durante il corso. Uno è vedere con uno sguardo nuovo situazioni come l'ambiguità, per esempio. Mi è rimasto molto impresso il fatto che l'ambiguità a cui noi diamo, è una parola a cui diamo normalmente un'accezione negativa, e l'ambiguità come situazione invece è ricca di possibilità e così via. Non vi anticipo altro perché posso aggiungere che mi piacerebbe farlo di nuovo.